buongiorno a tutti e ben ritrovati alla rubrica domanda risponde oggi l'argomento che tratteremo saranno le elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali andiamo a rispondere alla prima domanda quando saranno svolte le elezioni per votare i rappresentanti del consiglio di istituto e quelli del consiglio di classe per l'anno scolastico 2021-2022 le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale 215 del 15 luglio 91 modificata e integrata dalle successive ordinanze ministeriali 267 del 1995 la 293 del 1996 e la 277 del 1998 a riguardo si ricorda che entro e non oltre il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado non giunti ancora a scadenza triennale con la procedura semplificata ai sensi degli articoli 21 e 22 dell'om 215 seconda domanda quanti saranno i rappresentanti che andranno a comporre il consiglio di istituto il consiglio di istituto delle scuole con meno di 500 alunni ma sono veramente poche e composto da soli 14 membri 13 eletti e di diritto il dirigente scolastico e saranno così suddivisi 6 saranno insegnanti 6 saranno genitori degli studenti uno sarà un'ata o un amministrativo un tecnico un ausiliario e poi il dirigente scolastico appunto rappresentante di diritto se la scuola invece ha più di 500 alunni dunque la stragrande maggioranza delle scuole il consiglio di istituto è composto da 19 membri che saranno otto insegnanti otto genitori degli studenti due del personale ata e il dirigente scolastico però c'è da dire che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e istruzione artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione fino a 500 alunni a quattro negli istituti con popolazione superiore a 500 alunni dal caso sono chiamati per far parte del consiglio rispettivamente tre oppure quattro rappresentanti eletti tra gli studenti rispondiamo a una terza domanda se nelle elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni di un consiglio di classe si verificasse una situazione di parità di voti tra due o più genitori o alunni come si procede per la proclamazione nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino ai fini l'elezione del consiglio di classe o di interclasse o di intersezione lo stesso numero di voti si procede ai fini la proclamazione per sorteggio così è specificato all'articolo 22 comma 8 dell'ordinanza ministeriale 215 del 15 luglio 1991 e con questo abbiamo terminato sperando di avervi dato delle risposte importanti e che utili soprattutto a tutti i nostri lettori vi salutiamo alla prossima puntata arrivederci